Grazie a chi mi ha invitato, perché non ero mai venuto a San Tosso, scusatemi, ma quindi ho avuto anche l'opportunità di venire ai piedi del Sumano, che dicono che sia un orto botanico di grande pregio, e la vista che avevo occasione di andare anche sul Sumano. Detto questo, io tradisco subito la mia origine, nel senso che, vi dico, lavoro da più di 30 anni per aziende pubbliche che distribuiscono acqua potabile, e quindi chiaramente la mia è una posizione di parte, cioè per me è scontato che il servizio idrico sia un servizio pubblico, l'ho sempre stato, e anche credo, l'ho sempre stato, questo servizio erogato in maniera soddisfacente. Le aziende a cui faccio riferimento sono quella che adesso si chiama Acqua e Vicentine, ma che era prima l'azienda municipalizzata di Vicenza, e adesso raccoglie come AWS una trentina di comuni assieme a Vicenza, e l'altra azienda è quella di Padova, che si chiama Cegassa PS, perché si è unita con l'azienda di Trieste, e sono ancora aziende, Acqua e Vicentine come AWS, un'azienda totale capitale pubblico, a Cegassa PS, invece è un'azienda quotata in borsa, quindi una parte delle quote societarie sono anche state vendute a privati cittadini, come a banche, eccetera. Quindi io parlo dell'acqua come ovviamente bene comune o risorsa demaniale, l'acqua è un bene demaniale, perché molti invece la considerano ancora una cosa privata, soprattutto in quelle zone dove acqua e cena in abbondanza. Il percorso sarà questo, io spero in mezz'oretta di descriverlo. Il Vicentino, come vedete qui, dietro c'è un temporale, credo incombente, tra Malo, Santosso, Malano, non so, il fotografo è di Malo, quindi penso che abbia fotografato quella zona lì. Il Vicentino come vedrete è, come sappiamo, anzi come sapete, è una provincia particolarmente fortunata da questo punto di vista, ma questa fortuna ha fatto sì che noi vicentini siamo per i primi a sprecare l'acqua, come vedremo. Quindi non dico che voglio anticipare la conclusione, se l'acqua è un bene comune dobbiamo avere una responsabilità comune, cioè ognuno di noi singolarmente tutti assieme per la sua tutela, altrimenti magari il servizio resterà pubblico, ma può essere che non ci sia la risorsa da distribuire, un po' che estremizzando. Allora, quando è che diciamo che un territorio è ricco d'acqua? Il territorio per essere ricco d'acqua deve essere un territorio innanzitutto dove piove, dove piove in maniera abbondante, in maniera anche abbastanza distribuita nell'arco dell'anno e quindi se piove con abbondanza e in maniera regolare durante tutto l'anno, quel territorio, diciamo, c'è l'acqua che gli viene giù dal cielo. Questo però non determina da solo la grande disponibilità d'acqua, bisogna anche in qualche modo cercare di trattenerla, accumularla, quest'acqua. Quindi noi abbiamo due possibilità, o lo accumuliamo in bacini superficiali che possono essere dei laghi o degli invasi, o in bacini sotterranei, quindi quelli che vengono chiamati materassi permeabili, che stanno sottoterra, li vedete una cava di ghiaia, dove l'acqua riesce a essere accumulata in quantità notevoli. La ricchezza d'acqua dipende anche da un altro fattore, cioè che quando piove, soprattutto nelle zone di pianura, dobbiamo essere in presenza di aree permeabili, dove l'acqua quindi riesca a infiltrarsi e entrare, diciamo, in questo grande serbatoio sotterraneo. Sant'Oso si colloca in una zona di alta pianura, nel Vicentino, e il sottosuolo di Sant'Oso, soprattutto un po' più a valle di via Europa, un po' più giù di via Europa, perché si chiami così quella che taglia il piede e il sottosuolo, e lì abbiamo ghiaie nel sottosuolo, come voi ben sapete. L'abbondanza d'acqua dipende anche dal fatto che i corsi d'acqua torrentizi o che trasportano l'acqua dalle montagne giù verso la pianura, sono in grado di rilasciare notevoli quantità d'acqua attraverso l'alveo e quest'acqua va sempre nel sottosuolo. Ai bambini dicono, non è acqua persa, anzi è acqua messa da parte che tornerà utile in un momento successivo. La ricchezza d'acqua, il fatto di poter disporre di acqua dipende anche da quanta ne consumiamo, se ne consumiamo troppa probabilmente noi non potremmo disporre della stessa quantità di acqua durante tutto il tempo dell'anno, soprattutto quando ci sono delle stagioni sfavorevoli, quindi la ricchezza dipende anche da un consumo corretto e nel Vicentino, come noi sappiamo, ci sono migliaia, nel Veneto si parla di oltre 100.000 pozzi ad uso per prelievo di acqua che sono ad uso pubblico, ad uso privato e poi ci sono pozzi ad uso in riguo. Alla fine di tutto questo ragionamento sulla ricchezza d'acqua noi abbiamo un elemento, un fattore naturale che si chiamano risorgive, che sono uno sfioratore naturale di tutta l'acqua che sta sotto terra, che in eccesso non riesce più ad essere contenuta nel serbatoio e quindi viene restituita attraverso queste risorgive, che sono un elemento di arredo del territorio, di valorizzazione del territorio, sono zone umide e quindi zone dove c'erano notevole biodiversità, sono ambienti tutelati e di queste risorgive sia la Lombardia che il Veneto che il Friuli sono particolarmente ricche. Pensate anche in provincia di Vicenza sono state censite 400 capi fonte di risorgiva, punti come quello che vedete da cui fuoriesce acqua spontaneamente. Quindi vediamo allora il primo fattore, piove in questa nostra regione, in questa nostra regione piove e nel Veneto come vedete là in alto rispetto alla Puglia, alla Sicilia e alla Sardegna abbiamo delle precipitazioni nel Veneto e Friuli che sono consistenti, 2 metri, 2 metri e mezzo di acqua durante l'anno, mediamente, che vuol dire in termini assoluti miliardi di metri cubi di acqua che cadono dal cielo. Questi miliardi di metri cubi, e già lo si capisce da queste immagini, non si distribuiscono uniformemente in tutto il Veneto, ma si concentrano nella zona pedemontana, nella zona delle prealpi. Il perché è un fatto fisico, abbiamo dell'aria umida che risale dall'Adriatico, quest'aria viene spinta verso le prealpi che sono quote che ragionano di 2300 metri circa, qui si raffredda, condensa e piove. Il Vicentino, nell'ambito del Veneto, è una delle province dove piove di più, anzi a Turchatti di Recoaro si misurano sempre i massimi di precipitazione del Veneto. L'altro punto molto piovoso è la zona del Grappa, quindi le prealpi. Scusate, torno un attimo indietro, qui vedete che la stazione di Recoaro nel 2008 ha fatto misurare 3 metri e 20 circa di acqua e neve caduta durante tutto l'anno. Nel tre giorni del 2010, quando c'è stata l'alluvione, la stessa stazione ha fatto registrare mezzo metro di acqua in tre giorni, quindi quantità impressionanti, perché hanno dato poi origine a quei fattori, a quegli eventi che conoscevano. Quindi nel Veneto, nel Vicentino, piove, su questo siamo tutti sicuri, tant'è che è stato coniato, come voi ben sapete, anche un proverbio, però dobbiamo già dire che non sempre piove in modo regolare. Qui vedete due annate, 5 anni di distanza, 2003-2008. La precipitazione, le piogge cadute nelle zone montane della provincia di Vicenza, nel 2003 è stata la metà di quella che si è verificata nel 2008. Mediamente nelle zone montane cadono dai 2,5 miliardi di metri cubi in un anno, nel 2003 un 60% in meno rispetto al 2005, nel 2008 invece un 50% in più, nel 2010 un 60% in più. Quindi c'è una certa disomogenità nelle precipitazioni e questo già deve essere un fattore su quale bisogna riflettere per un corretto utilizzo della risorsa. L'Alto Vicentino che voi qui vedete rappresentato quindi ha questa prerogativa. A parte che l'Alto Vicentino è interessato da due bacini idrografici, quello del Brenta più a est e quello centrale del Bacchiglione, ha la prerogativa di essere contornato da queste prealti, il Garega, il Pasuvio, l'Alto Piano di Sette Comuni, Monte Grappa, cime che come dicevo raggiungono i 2.000-2.500 metri e dove quindi piove. Poi vedete poi che stanno comparendo tutti i corsi d'acqua a carattere torrentizio che trasferiscono l'acqua verso la pianura e di cui alveo viene rilasciata acqua che va poi a infiltrarsi nel sottosuolo. In questa stessa figura vedete anche tracciati vecchi alvei sepolti, così tipo paleoalvei, che sono delle zone nel sottosuolo dove transitano notevoli quantità d'acqua e vi faccio osservare che per quanto riguarda il Bacchiglione, qui ci sono dei paleoalvei che si concentrano in questa zona, che è la zona che sta tra Caldonio, Dueville e Sandrigo. La zona dove c'è il maggior numero di risorgive è la zona dove nasce il Bacchiglione. Il Bacchiglione è un fiume di risorgiva ed è il secondo per importanza in Europa, quindi è un fiume importante per una serie di motivi ed è un fiume la cui portata media sta diminuendo nel corso degli anni. Questo è un altro fattore che deve farlo riflettere. Come ho detto prima, le piogge non si distribuiscono uniformemente nell'arco dell'anno, abbiamo dei momenti di precipitazione intense, quindi abbiamo momenti di piena nei corsi d'acqua nei torrenti, qui vedete alcune fotografie. Un altro dato sul quale riflettere è che mediamente, proprio per effetto di questi eventi di piena, ogni anno noi vediamo passare sotto i nostri occhi e vanno al mare circa 100 milioni di metri cubi di acqua. Acqua che è caduta, è stata raccolta dai torrentelli montani, è stata convogliata nell'astico, nel Posina, nel Timonchio, nell'Eogra, nell'Olo eccetera e poi va al mare. 100 milioni di metri cubi è il quantitativo che consuma l'azienda di Padova, c'è gas Aps, acque vicentine e AWS in un anno. Quindi c'è un volume di acqua pari che ci scappa via sotto gli occhi, creando magari in quei momenti anche le situazioni di pericolo o di preoccupazioni. Questi fenomeni si stanno un po' accentuando tra l'altro in questi ultimi anni. Vedete alcune fotografie, ma anche solo per chiamare, dobbiamo anche convivere con queste situazioni. Noi abbiamo, come ho detto, sotto terra, sotto i nostri piedi invece un grande serbatoio e questo serbatoio sfiora naturalmente tutta l'acqua in eccesso attraverso queste centinaia di risorgive che si collocano nella zona della media pianura. Penso che si veda abbastanza, sì. Sono centinaia di risorgive che sono tutelate, quindi le risorgive sono degli elementi del territorio che non possono essere coperte, chiuse, perché sono tutelate. nonostante questo c'è qualcuno che siccome disturba magari chi coltiva il terreno, quando deve arare, oggi, un po' domani, un camion di chiaia, un po' di terra, le copre e le va poi a soffocare. Come si presenta questo sottosuolo? Cioè perché abbiamo questa ricchezza d'acqua sotto i nostri piedi? Perché se noi facciamo una sezione che vada più o bene verso Vicenza, attraverso Tiene, vediamo che il sottosuolo lo possiamo distinguere in due grandi zone, una zona più vicina alle montagne, più vicina ai rilievi, dove sopra questo substrato luccioso prevale, diciamo quasi esclusivamente, abbiamo alluvioni ghiaiose, alluvioni sassose, abbiamo ciotoli, abbiamo sabbie grossolane. Poi mano a mano che scendiamo verso la media pianura, verso Vicenza, cominciano a comparire nel sottosuolo questi che vengono chiamati orizzonti, argillosi. Questi orizzonti argillosi hanno degli spessori inizialmente contenuti, poi diventano sempre più spessi, raggiungono anche i 40 e i 50 metri e separano tra di loro dei livelli ghiaiosi, che sono le falde acquifere utilizzate poi dagli acquedotti. La infiltrazione dell'acqua, cioè l'ingresso dell'acqua nel serbatoio sotterraneo, può avvenire solamente in questa zona qui, perché se l'acqua cade nella pianura, diciamo a sud di Tiene, poi una buona parte viene rilasciata, ritorna in superficie attraverso le risorgie. Solamente l'acqua che cade, che piove quindi nella zona più a nord, più prossima ai rilievi, è acqua che riesce ad infiltrarsi in profondità ed è acqua che va ad alimentare poi i pozzi profondi che si trovano nella zona della media bassa pianura. Le zone sono chiamate zona quindi di ricarica della falda, zona di accumulo, perché queste falde qui sono chiuse, quindi sono falde che hanno una loro pressione, tant'è che nella zona di Vicenza, ma penso voi lo sappiate, se si fanno dei pozzi che raggiungono i 50, a 90, a 100 metri, da questi pozzi l'acqua risale spontaneamente senza necessità di pompe per sollevarla. E questo, come vedremo, è un fattore oggi di grande spreco di acqua. Allora, sotto i nostri piedi noi abbiamo circa 200 metri, 300 metri, in alcune zone non si è raggiunto il substrato roccioso, di ghiaia e di sabbia. Quando piove l'acqua si infiltra, quindi fa salire il bello della falda. Questo è un fatto naturale. Nel 2010 la falda è salita, poi vedrete il grafico, di 6 metri circa. Nel 2011 ha perso 6 metri, perché il 2011 è stato un anno siccitoso, quindi quella che era la quota che aveva raggiunto nel 2010 l'ha persa tutta nel 2011. Ma questa ricchezza d'acqua fa sì che dal Vicentino vengano ad tingere acqua, oltre agli acquedotti locali, quindi quello di AWS e quello di Acqua Vicentina, anche acquedotti che riforniscono comuni fuori provincia. Dal Vicentino preleva l'acquedotto che alimenta Padova e Abano per 40 milioni di metri cubi in un anno. C'è un altro acquedotto che preleva circa 4 milioni di metri cubi per servire una quindicina di comuni padovani, Pino Teolo, Robolone, Urbano. E poi dalle falde di Lonigo un altro acquedotto serve Legnago e una decina di comuni veronesi. Quindi noi Vicentini siamo, come quelli per il petrolio, siamo una zona di produzione e di esportazione di acqua. Qui vedete le due grandi aree di prelievo, l'area cosetta della falda di Dueville che è tutelata, da dove preleva l'acquedotto di Acqua Vicentina, insomma la falda di Dueville intesa come Dueville e Vicenza, e poi l'acquedotto che serve Padova e Abano e l'acquedotto che serve Piazzola, Rubano e Teolo, più questi comuni est di Vicenza, mentre al sud, nella zona di Lonigo, abbiamo un acquedotto che serve Legnago e alcuni comuni veronesi. Tutto questo sistema di attingimento è stato pensato e realizzato quando ancora non ci si poneva il problema che è qui indicato, cioè il rispetto di un equilibrio. Il rispetto di un equilibrio tra l'acqua che ogni anno entra in questo grande serbatoio e l'acqua che ogni anno viene estratta da questo serbatoio. Perché? Ci sia la garanzia di sostenibilità nel medio e lungo periodo dello sfruttamento di questo che è un bene comune, che è una risorsa quindi di tutti, bisogna rispettare un principio fondamentale, e cioè che l'acqua che entra e l'acqua che esce devono essere sullo stesso valore. Se c'è più acqua che entra rispetto a quella che esce, il livello della falda sale e le risorgive la buttano fuori. Se invece al contrario viene estratta più acqua di quella che ogni anno entra, il livello delle falde si abbassa e le risorgive si prosciugano. Questo è il quadro. Alla domanda come è oggi lo stato delle falde del Vicentino, si dà questa risposta. Oggi il serbatoio sotterraneo non è più ricco d'acqua come lo era nel passato. Le risorgive che sono l'elemento proprio che ci dà il polso della situazione, perché sono lo sfioratore naturale di tutta l'acqua in più, mostrano delle portate in diminuzione e dei periodi di tempo sempre più lunghi in cui sono asciutte. Non tutte, ma insomma molte risorgive si prosciugano. Ecco, non so se qualcuno l'ha già sentita questa storia, noi abbiamo studiato questi problemi all'interno dell'azienda per cui lavoro, quindi aziende pubbliche, già a partire dagli anni 90, abbiamo segnalato quelle che erano le cause secondo noi. E la prima di queste cause, oltre che è una causa dipendente dall'uomo perché la pioggia che piova di più o di meno non è che più di tanto dipenda da noi, ma le cause che adesso andrò a indicare sono cause che dipendono da noi, la prima di queste cause è il consumo del territorio. Il consumo del territorio in questi ultimi 100 anni ha fatto sì che noi abbiamo perso circa un 40% di superfici permeabili attraverso cui l'acqua poteva infiltrarsi. Questa era la situazione alla fine dell'Ottocento, praticamente dagli anni 50, quindi dal secondo dopo guerra al 2000 abbiamo urbanizzato, siamo cresciuti, siamo diventati economicamente più ricchi, però tutto questo anche a scapito del territorio. E il consumo del territorio vuol dire due cose, meno acqua che si infiltra e più acqua che viene poi trasferita rapidamente attraverso i torrenti giù, verso la pianura. Oggi la zona dove siamo si presenta così. e quindi la risposta di questo sistema è i livelli di falda si alzano, si abbassano, si alzano, si abbassano, in dipendenza di quanto piove, di come piove, però c'è una tendenza generale che mostra una diminuzione. Ecco, io vi faccio notare questo grafico che è di 40 anni, quindi un periodo di osservazione molto lungo, vi faccio notare come negli anni 70 i minimi non andavano al di sotto di questa quota che è di 51 metri sul livello del mare. Negli anni 80 siamo andati al di sotto di questa quota, nel 2000 siamo andati, nel 2003 è stato un anno eccezionale, siamo andati molto bassi e abbiamo raggiunto un minimo, un minimo storico. Nel 2010, fine 2010, inizio 2011 abbiamo raggiunto un massimo, però come ho detto nel 2011 è stato un anno siccitoso e la falda ha perso 6 metri, poi ho avuto un piccolo recupero, ma oggi, questa è la situazione oggi, voi vedete quella che è la flutazione media della falda nell'arco dell'anno, qui sotto ci sono le 52 settimane, dalla prima di gennaio all'ultima di dicembre, la falda ha una leggera risalita tra aprile e maggio e poi durante i mesi estivi generalmente scende per riprendere un pochino verso ottobre-novembre. Qui vedete alcuni anni particolari, questo è stato il 2003, da gennaio fino a ottobre la falda è sempre scesa, raggiungendo il minimo storico. Nel 2010 invece ci sono state piogge ripetute, è stato uno degli anni più piovosi dell'ultimo trentennio e ha raggiunto questo livello. Nel 2011 è partita quindi da questa quota ed è però praticamente sempre scesa, si è ripresa verso la fine dell'anno ma non in maniera così sostanziale. 2012 siamo partiti da questo punto ed è scesa, tant'è che a marzo noi eravamo a livelli decisamente più bassi di come eravamo a marzo del 2003, quindi una grande preoccupazione per quello che poteva succedere se ci fosse stata un'annata come il 2003. In realtà tra aprile e maggio è piovuto, quindi la falda si è ripresa, ha raggiunto a 18 giugno questa quota, adesso è già in discesa, siamo a questo punto. Quindi abbiamo tutta un'estate davanti e io devo pensare che il suo andamento sarà questo, fino alle prime piogge autunnali. Quindi il 2012 non si presenta come un anno particolarmente positivo. Questo è un altro pozzo che mostra più o meno lo stesso andamento, la perdita di quota della falta. Quindi bisogna pensare a delle strategie, ma queste strategie non le può fare il singolo cittadino. Queste sono strategie che devono essere condivise a livello di vaccino, qui dovrebbero occuparsi di questi problemi, le autorità di vaccino, in realtà le autorità di vaccino non hanno i fondi per farlo e quindi un po' la provincia, un po' la regione hanno cominciato a muoversi. La regione per esempio sulla questione dei prelievi ha emanato il piano di tutela delle acque, penso voi lo sappiate, e questo piano di tutela delle acque prevede che le situazioni di questo tipo non siano più ammissibili. Questo per esempio è un caso che nel Vicentino è molto frequente, ma ce ne sono nel Trevigiano, nel Padovano, nel Veneziano, pozzi che estraggono acqua di ottima qualità da sottoterra e la buttano via. Pensate che questo pozzo è stato cementato poi, estraeva il 15 litri al secondo, che vuol dire in un anno 475 mila metri cubi, fa bisogno di un paese di 4.000-5.000 abitanti. Acqua che non veniva utilizzata da nessuno e l'abbiamo cementato spendendo dei soldi. Chiuso, cementato, morto. ma ci sono migliaia di pozzi di questo tipo, pozzi lasciati aperti con un filo d'acqua, come dicono i proprietari, per non perdere la pena, ma se facciamo la somma dei fili d'acqua e li moltiplichiamo per i secondi giorni, le ore del giorno, i giorni dell'anno, vengono fuori 30 milioni di metri cubi di acqua buttata via, 30 milioni di metri cubi. Oggi questa operazione non è più consentita, anzi da domani, perché questa norma entra in vigore il 30 di giugno e la norma dice anche che sono i comuni che devono farla rispettare. Non è il caso di Santosso dove non ci sono questi tipi di situazioni, però i sindaci di Costa Bissara, Caldonio, Vicenza, Monticello, Conteotto, Due Ville, sono stati tutti sensibilizzati ma non sanno cosa fare. La seconda operazione che è stata proposta per cercare di far recuperare forza ai nostri servatoi sotterranei, perché ripeto, parliamo di bene comune, ma è un bene comune che qualcuno, qualche privato, ci porta via e non si riesce a capire chi è e in forza di quale principio lo faccia. E allora si cerca di compensare questo prelievo, questo spreco, ricaricando la falda in maniera forzosa, infiltrando acqua, infiltrando acqua alcuni mesi all'anno, soprattutto, siccome è acqua che viene normalmente usata per l'irrigazione, queste operazioni di ricarica si fanno nei mesi in cui l'acqua non serve per l'irrigazione, utilizzando o le aree boscate o i pozzi bebitori. Questo è un esempio di area boscata che è stata già realizzata a Schiavon. Il Consorzio Brenta ha fatto due impianti pilota di questo tipo, scavando delle canalette, mettendoli a fianco delle alberate e facendo scorrere acqua che poi, come il terreno di Essassoso, si infiltra nel sottosuolo. In questo modo, vedete, non è che si infiltri granché, 70 litri al secondo per ettaro, quindi non è grandi cose. È una tecnica che ha un vantaggio che il terreno viene vincolato all'uso, produzione biomassa legnosa e infiltrazione di acqua in falda. Un'altra tecnica che richiede minore consumo di territorio è quella dei pozzi bebitori. I pozzi bebitori sono dei pozzi scavati a una profondità di 6-7 metri, vengono riempiti di materiale grossolano, di ghiaione, di pietrisco, vengono alimentati con acqua e l'acqua poi entra nel pozzo e va direttamente ad alimentare la falda. In questo modo, nelle vicinanze del pozzo, la falda ha un recupero di livello. Qui vedete delle foto di alcuni pozzi, tre pozzi bebitori che sono già stati realizzati, quattro pozzi bebitori, scusate, quindi l'acqua viene derivata da una canaletta in rigua, viene immessa con questi tubi nei pozzi, pozzi sono degli scavi, fatti poi con degli anelli forati riempiti di pietrisco, in superficie non si vede niente, c'è solo un pozzetto. Il consorzio da Pienura Veneta ne ha fatti due a Cornelo, uno a Sarcello e uno a Montecchio Precalcino. Noi utilizzando un modello matematico che abbiamo sviluppato assieme all'Università di Padua abbiamo anche stimato quali sono i benefici per la falda se si fanno queste azioni, per esempio chiudendo i pozzi che sono di zone servite da Piedotto, quindi pozzi che non serve assolutamente lasciare aperti, perché non c'è motivo, si recuperano dai 30, i 40, i 50 fino a 60 cm di livello di falda. Recuperare il livello di falda vuol dire rivitalizzare le risorgive, quindi vuol dire ripristinare anche delle zone che hanno un'elevata valenza ambientale, come sono le zone umide delle risorgive. Ricaricando la falda invece con aree boscate, infiltrando 600 litri al secondo, non 70 come siamo riusciti a fare a Schiavon, 600 litri, quindi 10 volte tanto, si avrebbero anche qui dei recuperi di livelli di falda. Io sto andando alla fine, quindi sono stato nella mezz'ora. Che cosa bisogna fare? Noi abbiamo un territorio che è quello che voi vedete qui fotografato, è un territorio fortemente urbanizzato, non solo l'Alto Vicentino, tutto il Veneto, tutta la pianura padana è fortemente urbanizzata. Noi dobbiamo pensare in maniera diversa al territorio. Il Comune di Bolzano ha pensato, visto che il Comune di Bolzano le aree di pianura sono quelle che sono ed erano quasi tutte ormai state sigillate, impermeabilizzate, e questa cementificazione del suolo portava alcuni problemi relativamente all'arriginazione idrica, a un peggioramento del microclima urbano, inquinamento atmosferico, polveri e via dicendo, ha introdotto questo indice che si chiama indice di riduzione dell'impatto edilizio. In pratica questo indice va da 0 a 10 e per ottenere una concessione edilizia uno deve fare un calcolo e dimostrare che lui aumenta questo indice di riduzione dell'impatto edilizio e viene rilasciata permesso a costruire solo se per le zone industriali si raggiunge un indice di 1,5 e per le zone residenziali 4. Se si ha di sotto non viene rilasciata l'autorizzazione a costruire. Per concludere, noi non possiamo che prendere atto che negli ultimi decenni la provincia di Vicenza ha subito una trasformazione incredibile, il territorio è stato consumato quanto e più forse che altre parti del mondo. Questa urbanizzazione ha messo in crisi, come avete visto, il rapporto tra l'ambiente in cui si vive e l'acqua che permea attraverso l'ambiente. Noi dobbiamo avere un approccio rispetto a questo problema che sia un po' meno idraulico, cioè meno collettori di trasferimento dell'acqua meteorica verso, che so, una roggia verso un torrente e più ecologico, ovvero dobbiamo cercare di trattenere il più possibile l'acqua nelle nostre zone, facendola andare sottoterra. Allora, l'acqua, dico, è un bene comune ma richiede uno sforzo di tutti, uno sforzo comune e dove questo è possibile dobbiamo fermare la trasformazione in senso degenerativo del territorio, cioè vuol dire la pianificazione del territorio fatta con criteri diversi rispetto a quanto è stato fatto nel passato. Dobbiamo restituire l'acqua agli percorsi naturali, invece abbiamo cercato sempre di farle fare delle strade che facevano comodo a noi, poi quando succedono degli eventi eccezionali l'acqua si riprende i suoi percorsi, lo dimostrano nell'evento alluvionale di novembre 2010, l'acqua, scusate il Timonchio ha rotto esattamente dove aveva rotto nel 1966 e dove aveva rotto nel 1888, quindi l'uomo in 100 anni non è riuscito a farli cambiare il percorso. Recuperare le zone umide, anche con funzioni di bacini di laminazione delle piene e aree di infiltrazione, eliminare gli sprechi, ridurre i prelievi da falda e adesso sono veramente curioso di vedere come i comuni si porranno di fronte al problema della chiusura di quei pozzi che continuano a estrarre acqua anche in questo momento da sottoterra, destinare i suoli che hanno una naturale vocazione, proprio per le loro caratteristiche, a disperdere acqua, destinati alla dispersione dell'acqua, a ricaricare la falda, laddove è possibile perché credo in molte parti che questo non sia più possibile. Poi, se questo adesso diventa una scommessa, noi dobbiamo cercare di dare ai fiumi lo spazio per sfogarsi quando succedono degli eventi eccezionali, quindi lasciare a loro la possibilità di esondare in modo controllato durante gli eventi di piene e fare manutenzione degli alvei perché un altro degli aspetti negativi di questa scarsa attenzione a certi fattori naturali è la scarsa manutenzione degli alvei, quindi questi alvei si sono impermeabilizzati, si sono inglepiti, non rilasciano più acqua nel sottosuolo e quindi abbiamo una minore ricchezza nel nostro salvatoio. Ecco, questo è il messaggio. Tutto quello che voi avete visto è lavoro fatto all'interno della nostra società che si chiama Centro Edelconogoledo, che è una società partecipata da aziende di pubblico servizio. Io mi sono posto più volte, se avessi lavorato in una società privata, come ce ne sono, che danno questo tipo di servizio, mi sono chiesto più volte se ci avrebbero lasciato lavorare in questo campo, cercare di capire se ci sono problemi. Io non ho parlato di problemi di inquinamento, ma potremmo fare una serata su un inquinamento delle falde, anche nell'Alto Vicentino. Ecco, c'è da chiedersi se società private hanno, nella loro logica, nella loro filosofia, nei loro obiettivi, anche quello di tutelare o di portare avanti l'iniziativa per la tutela della risorsa. Forse devo pensare che non è qui, però non so se ci siano esempi in giro per l'Europa. Vi ringrazio.